ciao ragazzi e bentornati sul canale io sono mess81 e siamo qui oggi con code allora oggi vi porto una puntata particolare di fatti non era previsto che dovevamo registrare con fresh questa partita ma visto che è andata molto bene per entrambi abbiamo deciso di registrarla e portarla sul canale vi ricordo inoltre che durante la partita è stata inserita la parola per il contest della sponsorizzazione quindi chi vuole essere sponsorizzato sul nostro chi vuole sponsorizzare il proprio canale sul nostro canale deve appunto inserire la parola che abbiamo messo nel video e inserire il minuto in questa da detta nei commenti mi raccomando seguiteci come sempre e non vi dimenticate se volete essere sponsorizzato appunto di mettere la parola sui commenti vi lascio adesso alla partita vengiamoci almeno una vabbigia e cavolo dominio voglio tutti in posizione nemici in arrivo prendiamo a come ando come cazzo facete a pigliare a fareci pigliare a andone porca ci sei ah come cazzo facciamo a pigliare a piggiare a piggiare a piggiare a piggiare a piggio Che cavolo Dov'uccellare il bestone Ma che sparo, caramelle Vabbè, vabbè Prendiamo la squadra del cazzo comunque Sono morto Però almeno mi poteva uno con me Abbiamo preso il c Sì, abbiamo preso il c Il nemico cattura Kaeser Boh, boh, sto andando su C Prendere B, vabbè Che buttana Abbiamo B? Perfetto, almeno abbiamo B C'è modo di venerdì No, no, con te A me spalla A me spalla questa buona Manca poco per Kaeser Controlliamo tutti gli obiettivi Dipendiamoli Perdiamo l'obiettivo Berta Perdiamo l'obiettivo Kaeser Occhio occhio su B Dai, dai, dai No, no, con te Con quello che era vicino Prende B Kaeser catturato Contrattaccare Ok, sono tutti Il nemico Prende B Bruno occupato Sperdiamo l'obiettivo A F***a, non muore te Sulla, sulla, sulla Niente, aspetta, mi sono portato uno Veloce Mi deve andare sul bimbo eh Porca puttana Catturiamo. B L'ho preso no, qui l'ho presoником Mi metto lì, perchè così riesco a sparare verso la casa capito o che.. Occhio a B volevo dire Ah così Ah c'è abbiamo un C Sono arrivando Occhio B Dai che stanno andando su C Vai scinne pezzo di bastardo Allora ragazzi la parola di oggi da mettere sui commenti per il contest sponsorizzazione e chitarra Mi raccomando mettete anche il minuto in cui è stata detta Una mano su B Una mano su B Una mano su B Arrivo Stava arrivando un bastardo Cioè ero qua e non stava arrivando Cioè ero qua e non stava arrivando Pensa tu quando si supporta la nostra squadra di me Guardate qui tu stai Pensa tu che squaccia fotte che vabbè Dominio Scendete in campo e onorate la patria Relivo lo spia nemico avvistato Duriamo casa Approvvigionamento nemico Non devono rifornirsi Tanto l'occupato Servono rinforzi Aprire il fuoco con l'artiglieria Versaglio confermata We go We go Amore waffanculo M рекi su sparare un caricatore Oh, cari Oh, cari Oh, cari Oh, cari C'è una claymore là dentro Oh, cari Oh, cari Oh, cari Oh, cari C'è un cladino Qua, qua Vicino a B Il nemico frente B Perdiamo l'obiettivo Controlliamo la battaglia Prendiamo A Gatto, è a mia stavo in giocando Va bene, è a me Ho visto, ho visto Sì, è una moto Controlliamo tutti gli obiettivi Dipendiamoli Perdiamo l'obiettivo Anton Non mi vincere la città aerea Anno, è vero Prende un attimo qua Metto una claymore E adesso Il nemico cattura Kaizen Oh, c'è catturato Contraattaccare Vedi che c'hanno, c'hanno C'hanno No, c'hanno un bifo C'ero io, ma C'hanno due Ma porco Giuda Eh, c'era andato C'era una boom Vaffanculo 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 I pezzi di bastardi Ok, ma a me Lo vuono ammazzare Ma che palle Che mira di merda Vaffanculo A me non mi putta Eccomi Non mi sei Ah, io sono vicino Mi ho messo Una claymore L'azienda E' bella C'è qualcuno C, oh C, 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 c Cazzo C, cretino C Ci sono, ci sono Ci sono No, tu C'è qualcuno Vai, c'è qualcuno No, ci sono Vai, vai Ah No, muore Vaffanculo Muore E muore C'è qualcuno No, no Parco, succeso C, succeso C, succeso C, succeso Parco, succeso Parco, succeso Eeeh, un bio è morto Nella cleve Ok Ok Parca due Sì, sì Ci sta arrivando non c'è la fischia a mu... l'ammazzate prima eh? ti ho combinato ci mette un incendiato ma ammazzate io stesso però c'è la fischia guarda ma ci casca il tempo ci metto la grange guarda in occhio su B su B bombardamento a bassa qua te ne arrivo aspetta che posso girare da qua comunque gli abbiamo rotto il culo un bè comunque vada gli abbiamo rotto il culo e muori vaffanculo se muovemmo che ne si cassero ma poi gli abbiamo minicato ok 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 su c'è 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 che buttana ma lo vede sempre e muore vaffanculo occhio occhio ce n'è uno e muore vaffanculo grande oh gli scassano gli scocchiamo gli scocchiamo gli scocchiamo lì c'è fu un copo d'acqua e lui puoi vedere che ha fatto questo ha ammazzato due persone vediamo la tua cosa dai e io che l'ho ammazzato i quattro ma come ne ho un ferno perchè sono arrivato praticamente all'abobardamento incendiario sono riuscito ad arrivare no? e quindi sminghei comunque l'italiano anche questo quale tu sei bravo il primo sono io e me la grazie 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 grazie